amici di dieta flessibile ben ritrovati ancora una volta con il vostro nutrizionista preferito oggi con un'amica che ha ottenuto dei risultati incredibili e come mi diceva anche lei prima di questa intervista inaspettati non ci sperava e quindi ragazzi vi presento subito alessia alessia benvenuta ciao ciao a tutti mi presento sì presento di un buon raccontaci un attimo chi sei allora sono alessia ho 40 anni ho avuto un bimbo da tre anni e mezzo e dopo la gravidanza sono cioè vabbè all'inizio sono diminuita per 10 kg subito ma poi li ho rimessi su tutti con gli interessi ho tentato più volte di perderli ma con zero risultati cioè ero arrivata veramente a pesare come il nonno mese di gravidanza peccato che non avevo la pancia cioè era in tutto il corpo e quindi era un po' disperata non sapevo bene cosa fare e dicevi che hai tentato qualche dieta cioè qualcosa l'hai provata no cos'era questi ho tentato ma in realtà ho tentato anche non diete molto restrittive cioè dietro abbastanza equilibrate ma il mio punto debole era a parte la costanza che è sempre stata il punto debole ma poi era al primo sgarro che magari non lo so c'era da mangiare il prosciutto io il prosciutto non l'avevo in casa lì basta panico e adesso cosa faccio sgarrato il giorno dopo dicevo vabbè ormai ho sgarrato ieri anche se sgarro oggi e così andavo avanti e così perdevo tutti i progressi che avevo fatto magari la settimana due settimane prima il problema era questo quindi qual era la cosa che diciamo delle diete mi pare di capire quelle un po' classiche non tutte impostate in cui devi fare sempre quello ogni giorno qual era il problema che incontravi maggiormente in questo tipo di diete il problema era quando non riuscivo a rispettarlo quando magari non avevo casa all'alimento magari arrivavo a casa cioè finivo tardi lavorare non mi ero accorta che quel giorno non avevo quell'alimento e lì non non ero in grado di di capire da sola cosa fare quindi un po' perché magari mi serviva l'aiuto cioè qualcuno da poter contattare subito e non perdermi un po' perché ero io che mi lasciavo un po' fregare tra virgolette e quindi basta poi io perdevo diciamo la concentrazione nel senso che dal giorno dopo poi dicevo vabbè ho sgarrato ci se ne frega inizierò domani inizierò domani inizierò domani inizierò domani e andavo avanti così chiaro quindi un po' il problema di avere non solo tutto impostato ma anche quello essenzialmente di avere ricevere il foglietto e poi essere abbandonati anche quello un po' ti ostacolava sì in realtà ti dico l'ultima volta ero ero anche abbastanza seguita però sai cioè cerchi di regolarti no è il tuo schema cerchi di seguirlo se non lo segui un giorno non è che contatti dici guarda che non l'ho seguito cosa posso fare allora non era così adesso ok chiarissimo e allora a questo punto te lo devo chiedere cos'è che ti ha convinto a innanzitutto prima un po' informarti e incuriosirti ma cosa ti ha convinto a iniziare un programma con noi allora la principale la principale è stata una mia amica che la stava già seguendo quindi era il suo entusiasmo proprio mi ha mi ha stracolpito cioè continuava a dirmi guarda sto seguendo questo percorso c'è il mio coach mi puoi mangiare quello che vuoi io mangio anche le patatine fritte dicevo mangia le patatine fritte vabbè mangi tutto quello che vuoi poi ti segui ti dà gli allenamenti è bellissimo io di dentro di me dicevo ma anch'io io ti dico l'unica cosa che ho sempre fatta dopo la gravidanza avevo un personal e mi seguiva sono sempre da dal punto di vista fisico sempre fatto movimento anzi più di prima dal lockdown lo facevo però dal punto di vista alimentare non riuscivo proprio e quindi lei con suo entusiasmo ha cominciato a guardare a iscrivermi al gruppo ho cominciato a leggere un po' informarmi in più lei vabbè continuava a descrivermi tutto il percorso vabbè le ho detto sai che c'è fammi contattare infatti ho sentito poi la sua coach e da lì è partito tutto ti sei lanciata però a questo punto visto che in tanti amici c'è sempre prima di iniziare no quel dubbio quel qualcosa che li trattiene dal cominciare non so se era il tuo caso ma c'è stato qualcosa che ti tratteneva dal cominciare che ti faceva venire qualche dubbio sul programma sì e no nel senso che se me lo diceva lei ero strassicura perché mi strafido quindi ho detto no deve essere per forza se lo fa lei ed è convinta vuol dire che poi ovviamente un po' vabbè comunque un investimento perché io sono partita subito con la rinascita e quindi vabbè prima di fare un investimento dici lo faccio non lo faccio ti fai un po' di pensieri però poi ho detto ho speso tanto in questo periodo per personal eccetera per diete che poi poi non sono riuscita io e non do la colpa agli altri nel senso sono io che non sono riuscita a portare avanti e quindi ho detto perché no facciamolo poi al massimo è l'ennesima cosa però se va bene e quindi lì solo lì perché poi no ok quindi ti sento se va bene e siamo arrivati a oggi è andata bene sì è andata più che bene ma facci un po' di che risposta ti hai avuto ma allora ti dico la prima settimana allora il primo mese sono dimagrita subito 5 chili ti dico la prima settimana e mezza due mangiavo comunque cibo sano cioè avevo paura a dire vabbè provo e mangio qualcosa in più magari sì un pezzettino di cioccolato ma niente di più poi dopo ho detto ma leggo dicono che mangiano l'hamburger mangiano l'almendona allora ho detto proviamo quindi il giorno dopo sono andata con mio figlio che c'ha tre anni e mezzo e ho detto vabbè lui mangia il patatine frida tutto questo ho detto provo l'hamburger prima sono andata sui siti mi sono scaricata tutti i macros super fatto da allora l'ho fatto cioè ovviamente vabbè sempre rispettando tutti i macros però da allora ho capito che in realtà veramente funzionava come sentivo come leggevo era proprio così cioè io potevo mangiare basta che rispettavo i miei macros facevo l'allenamento bevi è un altro problema io bevevo pochissimo e adesso bevo tantissimo cioè io prima bevevo proprio poco poco e poi non condivo cioè io non usavo condimenti zero olio adesso infatti quando ho cominciato con i grassi per me era la scoperta io prima di primo mese come come si dice come spuntino mangiavo un panino fatto in casa con l'olio perché era fantastico cioè ti giuro era per me era una cosa impensabile una cosa così certo perché solitamente è il contrario cioè mangiare senza grassi senza olio e tutto passare a una dieta in cui praticamente tra virgolette devi mangiare il pane con l'olio perché non ci arrivi e la svolta ne rendo conto infatti il mio compagno non ci credeva ma tu mangi questo e dimagrisci poi quando ho cominciato a vedere ha detto vabbè allora funziona e quindi per la prima volta ho avuto anche il suo appoggio che comunque conta tanto e questo è stato un altro aspetto positivo di tutto questo percorso assolutamente è meraviglioso chiaro chiaramente ma devo chiedertelo di tutti i risultati che hai avuto nel percorso fino a oggi quello che proprio ti ha sorpreso di più che non ti potevi aspettare qual era? ti dico me stessa il fatto di averci creduto di continuare la costanza che non ho mai avuto e poi ti dico ho quasi raggiunto l'obiettivo a livello di peso però ho un corpo che è diverso da prima cioè io anche quando mi guardo allo specchio è proprio diverso anche la forma fisica cioè non c'entra niente con prima cioè ti soddisfa proprio e poi la consapevolezza cosa che tutti dicevano comincia ad essere consapevole di te per me era una cosa cioè proprio non lo capivo e invece adesso sì adesso riesco a regolarmi riesco non dico a stimare sempre bene ma ma quasi è vero perché non ho problemi a uscire a spiegare effettivamente la consapevolezza cioè non lo puoi trasmettere finché non lo vivi fai il percorso poi qual è il percorso migliore di quello che stai facendo tu con un coach che ogni giorno ti segue proprio capire come puoi mangiare realmente quello che vuoi per ottenere i risultati che vuoi questo è difficile trasmettere cioè devi farlo devi provarlo e tu lo stai lo stai provando sì e voglio c'è adesso è bello perché adesso è miglioramenti nel senso magari io adesso i macros adesso li so alla perfezione cioè li seguo bene non hanno più problemi magari adesso dovrei introdurre più fibre dovrei tonificarmi adesso è proprio un migliorare sempre di più è un perfezionamento assolutamente sì sì di tutto questo percorso che abbiamo affrontato insieme per te cosa è stato più importante cioè se dovessimo trovare un elemento che più di ogni altro ti ha aiutato in questo percorso quale sarebbe? beh io ti direi sicuramente il fatto di essere seguita da un coach cioè se io tornassi indietro lo farei ancora perché è un aiuto costante questo non vuol dire che deve essere una baglia che devi contattarlo tutti i giorni no non è questo però quando hai bisogno sai che hai qualcuno che sa aiutarti che ti dà un appoggio che ti dà a volte anche un conforto un supporto ma è che è sempre disponibile aiutarti certo quindi facciamo subito i complimenti quindi sicuramente quello è stato il coach che ci starà sicuramente seguendo perché sa che c'è l'intervista quindi lo salutiamo ciao assolutamente ciao posso anche dire il nome non lo so ti aiuto tranquillamente se lo sa ciao Dani grazie e sicuramente sì come dici tu è qualcosa di davvero importante come dico sempre perché da soli sì possiamo diventare bravi ma magari diamo per scontato certe cose facciamo anche certe cose magari anche tu stessa all'inizio del percorso quante cose pensavi fossero giuste e invece poi con l'aiuto del coach ti sei resa conto che magari o possono essere fatte meglio oppure sono proprio sbagliate certo sì sì assolutamente ma per qualsiasi cosa cioè che poi io ti dicevo anche prima tendo a fare di mio però ci sono certe cose che ti chiedi e magari ti dà la risposta e quindi non lo so hai sempre il supporto non ti senti mai abbandonato sempre una parolina che ti fa andare sulla strada dritta sul percorso giusto quindi per me è stato fondamentale fantastico io lo consiglierei assolutamente e appunto tu questo tipo di programma a chi lo consiglieresti? a che tipo di persona? io a tutti indistintamente perché sì ti dico ci sono delle persone che preferiscono uno schema rigido che magari sono un po' ostili a questa cosa che devi registrare tutto di metterti lì però io ho visto il problema è stato forse il primo giorno e mezzo dopodiché per me è stato proprio una sfida un gioco metti inserisci prima facevo tutto il giorno prima per il giorno dopo poi dopo in realtà vabbè dopo un po' diventi un pochino più bravo quindi lo puoi fare dalla mattina in base a quello che mangi nel primo mezzogiorno magari sei uscito a pranzo e quindi in base a quello che hai mangiato anche al ristorante perché io veramente ultimamente sto andando spesso anche fuori in base a quello che vai al ristorante e poi ti regoglia la sera e ti rispetti tu ai martes quindi lo consiglierei a tutti ci vuole sì l'impegno iniziale ma secondo me è veramente un impegno che vale tutto quello che poi c'è dopo secondo me il minimo sforzo iniziale vale la pena tutta la libertà che ti stai godendo adesso cioè appunto andare a ogni ristorante non so quante altre diete te lo consentono effettivamente mai poi ti dico io non avevo portato mai neanche la bilancia adesso che sono in vacanza ho usato anche la bilancia per la prima volta però vabbè perché no certo assolutamente cioè libertà è anche questo cioè gestirti il piano come preferisci poi appunto essendoci il tuo coach personale che ti aiuta anche a stimare eventualmente i cibi puoi chiedere un consiglio guarda secondo te quanto pesava questo anche a occhio diventa tutto davvero davvero più semplice e più snello e quindi ragazzi io invito tutti quanti approfitto proprio di questo input di Alessia ragazzi vi invito a se avete deciso anche voi di iniziare un percorso che vi trasformi non solo il corpo ma anche la vita come è successo per lei cliccate il link in descrizione c'è il link per parlare con un nostro consulente al telefono anche tu hai fatto così Alessia parlate con un nostro consulente vi mostrerà il percorso migliore per voi per farvi raggiungere il vostro obiettivo e per finalmente dimagrire senza fare la fame e senza stressarsi e che dire Alessia io ti ringrazio tantissimo grazie a voi per essere stata con noi con gli amici che sicuramente sono finalmente adesso motivati e convinti a iniziare un percorso per il loro benessere ti ringrazio ancora aspetto sempre i tuoi aggiornamenti nel nostro percorso ragazzi per questa sera è tutto noi ci vediamo a una prossima diretta sempre qui su Dieta Flessibile con il vostro nutrizionista preferito grazie a tutti